Sistema previdenziale Passatemi questo gioco di parole. Il primo di questi contributi, il più importante, è il contributo obbligatorio. È obbligatorio, cioè dovuto in base a precisi obblighi di legge da parte del lavoratore durante l'intera sua esistenza lavorativa. Una parte del reddito lordo del lavoratore che viene presa e destinata per alimentare la previdenza, e in particolare la propria previdenza, soprattutto in funzione del sistema contributivo, come vedremo tra un attimo. Tale sistema, i contributi obbligatori, sono dovuti in una percentuale, abbiamo detto, del reddito lordo, che è del 33% per i lavoratori dipendenti e del 20% per i lavoratori autonomi, percentuale però destinata ad aumentare fino al 24% da qui al 2018 in base alle recenti integrazioni normative. Vicino, a fianco alla contribuzione obbligatoria, ci sono altre forme di contribuzione. Andiamo ad esaminarle rapidamente. Anzitutto abbiamo i contributi da riscatto, quando cioè si riscattano, pagando a titolo oneroso quindi, alcuni periodi della propria vita. Si pensi per esempio al corso di laurea, agli anni regolari che hanno portato alla laurea. Riscattando questi anni, pagando però di tasca propria un certo tipo di somma, si può aumentare quindi la propria età, diciamo così, lavorativa, si può aumentare il numero di anni in cui si sono effettuati i contributi e quindi maturare prima i requisiti pensionistici. Ancora abbiamo contributi volontari, contributi quindi che il lavoratore paga anche qui di tasca propria per coprire periodi nei quali la contribuzione obbligatoria non può essere eseguita, ad esempio periodi in cui c'è mancanza di lavoro. E infine abbiamo ancora contributi figurativi, contributi invece non a titolo oneroso, o perlomeno non a carico del lavoratore, con i quali si fanno figurare ai fini pensionistici determinati periodi della propria esistenza, ad esempio la gravidanza oppure il servizio militare. La struttura previdenziale prevede poi prestazioni di vario genere e ci soffermeremo in particolare su alcune di queste, in particolare, dicevo, su quelle di vecchiaia e di anzianità, perché poi esistono altre pensioni, le pensioni per esempio di reversibilità, le pensioni cosiddette ai superstiti, di normal coniuge superstite, oppure le pensioni di invalidità o di inabilità, nel caso di infortuni, ma esulano da questo nostro argomento odierno. Abbiamo accennato ai sistemi di calcolo delle pensioni, andiamo a vedere in che modo si possono sviluppare. Abbiamo fondamentalmente due sistemi, un sistema che definiremo retributivo e un sistema che definiremo contributivo. Con il sistema retributivo, in definitiva, il lavoratore percepirà come pensione un qualcosa che verrà calcolato in base alle retribuzioni. Quali retribuzioni? Le ultime, la media degli ultimi dieci anni. Con il sistema contributivo, il lavoratore invece percepirà una pensione che si baserà su quanto effettivamente versato nell'intero arco della propria attività professionale, un'attività che si può svolgere attraverso molti anni e contributi, quindi che potranno essere molto diversi a seconda degli anni e verranno rivalutati in base a precisi coefficienti fissati dalla legge. Il sistema italiano, tramite una serie di interventi legislativi, soprattutto dell'ultimo ventennio, ha modificato quello che era il sistema di base, cioè il sistema retributivo per tutti, in un sistema che invece fa riferimento a determinati archi temporali. I lavoratori che al 31 di dicembre del 1995 avevano maturato almeno 18 anni di attività lavorativa regolare, hanno e avevano diritto, in base alla legge Dini emanata proprio in quel periodo, al calcolo della pensione in base al sistema retributivo puro, vale a dire misurato sull'ultimo decennio di attività lavorativa. I lavoratori in generale che iniziavano l'attività lavorativa dal 1 di gennaio del 1996 hanno invece visto fin da subito l'applicazione integrale del sistema contributivo, un sistema di calcolo delle pensioni, lo abbiamo visto, che si basa su quanto effettivamente versato mese dopo mese, anno dopo anno. E i lavoratori che al 31 di dicembre del 1995 erano già in attività lavorativa, ma avevano meno di 18 anni di attività stessa, bene per loro vigeva un sistema misto, un sistema che si basava sulle retribuzioni e quindi sul meccanismo retributivo fino al 31 di dicembre del 1995 e un sistema di carattere contributivo per quanto versato dal 1 di gennaio del 1996. Una recentissima introduzione normativa del governo Monti ha però abolito del tutto il sistema retributivo. Cosa vuol dire? Che anche i lavoratori che al 31 di dicembre del 1995 avevano più di 18 anni di attività lavorativa si vedono ricalcolare tutto sulla base del sistema contributivo? No, per loro i diritti acquisiti sono salvi. Quindi il sistema retributivo è ancora in vigore per quanto da loro maturato fino al 31 di dicembre del 2011, ma dal 1 di gennaio del 2012 anche per loro il sistema di calcolo sarà sulla base del metodo contributivo che è diventato il metodo standard del nostro ordinamento giuridico. Il sistema retributivo viene gestito in base al metodo a ripartizione dei contributi, mentre il sistema contributivo viene gestito in base al sistema a capitalizzazione. Come ricorderete il sistema a ripartizione prevede la gestione diretta dei contributi versati dai lavoratori in attività che vengono indirizzati direttamente verso coloro che sono in pensione ed è quindi molto conveniente e molto funzionale nei paesi e nei sistemi dove la proporzione tra lavoratori in attività e lavoratori in pensione prevede un numero molto superiore dei primi rispetto ai secondi. Il sistema contributivo funziona invece maggiormente nei sistemi nei quali l'equilibrio tra popolazione anziana fuori dal processo produttivo e popolazione residente è circa di 1 a 1, per cui col sistema contributivo e con il metodo a capitalizzazione sono i contributi che vengono fatti fruttare e vengono quindi direttamente poi reimmessi nelle pensioni di coloro che avevano versato i contributi stessi che verranno negli anni rivalutati in base a coefficienti di norma fissati per legge. È altrettanto evidente quindi che con il sistema retributivo, anche per sua natura, lo dice anche lo stesso nome, ci si baserà molto sulle ultime retribuzioni, cioè sugli ultimi stipendi e le pensioni che si percepiranno, assomiglieranno molto alle ultime retribuzioni e agli ultimi stipendi. Sarà invece diverso con il sistema contributivo, dato che io avrò contribuito per un periodo molto lungo di tempo con i miei contributi ad alimentare quello che diventa il mio montante pensionistico, è probabile che, per quanto buono possa essere, io riesca a gestire con il primo pilastro, quello della previdenza di base, circa il 50%, forse qualcosa di più rispetto a quello che prendevo di stipendio durante l'ultima attività lavorativa. È questo il motivo per cui si andrà sempre di più verso un sistema in cui, a fianco della previdenza di base, quindi del primo pilastro, ci saranno una previdenza complementare collettiva e una previdenza complementare individuale per cercare di raggiungere, di appunto completare quanto più possibile quello che era il tenore di vita dell'attività lavorativa e portarlo negli ultimi anni di vita, nell'attività che si svolgerà durante il periodo della pensione. Tralasciando quei tipi di pensione particolare, quella di invalidità, di inabilità, oppure le pensioni di reversibilità, che in questo momento non interessano il nostro argomento, abbiamo già più volte ricordato come i tipi di pensione del nostro ordinamento storicamente sono stati la pensione di vecchiaia e la pensione di anzianità. La pensione di vecchiaia fa riferimento al requisito anagrafico, in altre parole, a quanti anni si hanno. Invece la pensione di anzianità fa riferimento al servizio lavorativo, quanti anni di attività lavorativa si hanno alle spalle. E storicamente al raggiungimento di una certa età, che negli anni peraltro è cambiata più volte, o di età anagrafica o di anzianità lavorativa, si maturavano i requisiti per andare in pensione e quindi per ricevere, invece che lo stipendio dall'azienda, lo stipendio, diciamo così, direttamente dall'ente pensionistico, vale a dire appunto la pensione. Storicamente, dicevo, pensioni di vecchiaia e pensioni di anzianità. Attenzione, perché la recente legge del governo Monti, oltre a modificare altri aspetti, come abbiamo visto, sui sistemi di calcolo delle pensioni, ha modificato anche ulteriori aspetti relativamente proprio alle pensioni di vecchiaia e alle pensioni di anzianità. Anzi, sulle pensioni di anzianità è intervenuta in maniera radicale. La pensione di anzianità non esiste proprio più. Ma ci arriveremo tra un attimo. Cominciamo dalla pensione di vecchiaia, che prevede il raggiungimento di una determinata età anagrafica per poter andare in pensione. Età che è stata ulteriormente elevata, sia per i lavoratori, sia per le lavoratrici, sia per i lavoratori dipendenti, sia per i lavoratori autonomi, sia per i lavoratori del settore privato, sia per i lavoratori del settore pubblico. Ci stiamo avvicinando progressivamente verso i 67 anni di età e non è detto che nel futuro questi limiti, con l'aumentare anche della vita media, possano essere ulteriormente dilatati. Ma ci interessa di più il discorso della pensione di anzianità, perché, come abbiamo detto, oggi l'anzianità di servizio non è più un requisito per maturare i diritti alla pensione. Oggi la pensione di anzianità, quindi avere raggiunto un certo numero di anni di servizio, non è più sufficiente a questi fini. È però possibile ottenere una pensione che oggi si chiama anticipata, qualora si raggiunga una determinata soglia minima di anzianità lavorativa, calcolata per i lavoratori in 42 anni e un mese, per le lavoratrici in 41 anni e un mese di anzianità di servizio, e una quota minima anche di vecchiaia, vale a dire 62 anni. Perché al di sotto dei 62 anni, qualora si maturino comunque i requisiti di anzianità lavorativa, si potrà scegliere di andare in pensione, ma con una decurtazione sulla pensione stessa di un 1% per ogni anno in meno rispetto ai 62 anni di vecchiaia. E questo è un cambiamento assolutamente radicale nel nostro ordinamento. Voi ricorderete che fino a non molto tempo fa vigeva un sistema di quote per poter andare in pensione, un tot di anzianità e un tot di vecchiaia. Ebbene, il sistema delle quote è stato completamente abolito e oggi le pensioni di anzianità non esistono più, sostituite da questa pensione anticipata, così come abbiamo avuto modo di vedere.